Musica Oggi Cibum fa tappa a Sonnino Scalo, siamo in provincia di Latina al ristorante Il Carrubbo e siamo ospiti della famiglia Celani. Nostro commensale è Angelo. Benvenuti. Grazie. Il ristorante Il Carrubbo si fonda sui prodotti del territorio, quindi è una cucina tipica legata molto a questa zona delle colline pontine. Esatto, qui in zona abbiamo molti prodotti che ci aiutano nella preparazione dei nostri piatti. Uno fra tutti forse è l'olio che arricchisce i nostri piatti in maniera importante. Poi ci sono altri prodotti legati anche alla stagionalità, insomma, quali carciofi, asparagi, lo stesso che proponiamo di volta in volta in base al periodo. La vostra è un'azienda familiare, Angelo, è vero, perché in cucina chi c'è? Allora, chi comanda in cucina è la mamma, mia ragazza, che da sempre, ormai da 23 anni, che gestiamo questo ristorante, adeguata poi da Lenuore, quindi Ilaria che è mia moglie e mia cognata Lucia, mentre invece io e mio fratello Massimiliano ci occupiamo della sala. A proposito di Massimiliano, ci deve servire l'antipasto. Esatto. Che cos'è? Sono dei fagioli fatti in umido con il pomodoro, ma adesso penso che lui vi racconterà meglio come sono fatti. Massimiliano, grazie, gentilissimo. Questo ovviamente è solo uno dei piatti, delle pietanze che fanno parte del vostro antipasto, però, ecco, raccontaci intanto come è stato preparato dalle signore in cucina. Sì, viene fatto un soffritto con olio e pancetta, viene aggiunto il pomodoro, sale e poi infine i fagioli e poi portati a cottura, diciamo, a fine cottura. Sì, questi sono dei fagioli cotti veramente alla perfezione, no? Dei borlotti che conservano la loro sapidità, la loro integrità nella preparazione. Si sente la mano casalinga, la mano sapiente di una donna che cucina da tanti anni, anche perché il sapore è comunque delicato, nonostante il fagiolo sia, soprattutto il borlotto, sia un alimento che comunque viene dalla terra, che comunque viene da una produzione agricola importante. Mi piacciono tanto i sapori, valorizzato poi da quest'olio straordinario dell'azienda Casinore qui di Sonnino.